Eccoci qua, abbiamo finito la selezione di Beauty Queen Triveneto 2020, con me la seconda classificata, Elegance Queen. Tesoro, un commento a caldo. Sono emozionatissima, mi sono divertita un sacco, è stato bellissimo e vi ringrazio perché è stato veramente veramente bello. Tutto ciò è stato emozionantissimo, veramente. Grazie mille!